Per il segno della Santa Croce, o Dio glorioso, liberaci, Signore nostro, da tutti i nostri nemici. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi veri, e crea il tuo amore, inventa il tuo Spirito e tutto sarà e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo, o Dio, che ammaestisci i nostri cuori dei tuoi veri con la luce dello Spirito Santo, fa che apprezziamo rettamente tutte le cose secondo lo stesso Spirito e godiamo sempre della sua consolazione, per mezzo di Cristo Signore. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua amatissima sposa. Ti offro, mio Dio, nel cuore santissimo di Gesù, attraverso il cuore del cuore, le preghiere, le opere, le sofferenze di questo giorno, in unione e unione delle nostre offese e per tutte le intenzioni perché lo stesso cuore divino è continui, intercedendo e sacrificandosi sui nostri altari. Ve lo offre in modo particolare per le intenzioni del Santo Padre, del Papa e per la crescita e la perseveranza delle vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il suo nome, il tuo regno venga a noi, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come perdoniamo coloro che ci hanno offeso, e non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta sei tu fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era all'inizio, ora e per sempre. Amen.